Allora, che facciamo? Quando l'utente si logga, noi vogliamo memorizzare che l'utente si è logato. Vogliamo tenercelo qui, nei dati, quindi vogliamo registrarlo qua. Perché? Perché poi possiamo fare l'associazione dei messaggi con l'utente che si è logato. Quindi andiamo a farla. Quindi, ritorniamo nel nostro servizio. Qui, lo user profile. Perfetto. Allora, qui abbiamo fatto questo, però dobbiamo portarci via anche la logica del sign-in. This sign-in, this sign-in e il fan group. Quindi, qui c'era la funzione. Benissimo. E la portiamo nello user profile. Async, sign-in, with email and password. Vogliamo questo qua. Ovviamente, ho fatto la stessa identica funzione di Firebase. E quindi non va bene. Sign-in, email, pv-date. Ok, pv-date. Quindi, qui ci mettiamo email, per punti string, password, per punti string. E qui bisogna che le importiamo. Quindi, email, password. E qui fa il reroute. Perfetto. Quindi, qui, che dovremmo già averlo. Eccolo qui. Quindi, facciamo un bis.user profile. Sign-in, email e password. Value.email, value.password. E facciamo anche quella con Google. Eccolo qua. In questo caso, invece, lo chiamiamo Sign-in with Google. Copiamo questo. Che poi, ho usato una sync, ma non serve. Questo non ritorna nulla. Intanto facciamo sign-in with Google. Qui non c'era niente. Possiamo tranquillamente copiarci questa roba qui. Andiamo a fare l'import. E formattiamo il documento. Oh, ecco qua. Già, così è un po' meglio. Quindi, qui, non serve le mail e le password. Che non serve a niente. Per esalta, non ci serve. Se è logato, fa il navigate. Vabbè, lasciamolo così. Quindi, qui, togliamo via questo. Questo is. In to use profile. I mean with Google. Questo lo possiamo togliere. Questo è tutto a posto. Questo lo possiamo togliere. E togliamo via anche tutta sta roba qua. Ok, abbiamo spostato tutto nel servizio. Ora, qui, che dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere l'utente che si logga. Ora, qui, dobbiamo... Eh, niente. Qui, andiamo a implementare l'on init. Ce lo andiamo a importare. Qui... Facciamo... Qui, che so, facciamo. User dollaro. Tanto non ha subscribe. Eh, vabbè. Però, ci mettiamo in ascolto. Di questo. Ci mettiamo un filter. Quindi... User not equal null. Quindi, andrà avanti solo se l'utente è logato. A questo punto, dobbiamo andare a controllare se l'utente esiste nella collection. Quindi, questa sera, vediamo un'altra cosa. Come prendere il documento come snapshot. Quindi, ci andiamo a prendere il... Firestore, perché ci serve. Andiamo a iniettarlo. Se aggiungevo elementi, una collection, si aggiornavano. Lo snapshot, invece, prendi lo stato e non si aggiorna se, ad esempio, aggiungi elementi nella collection oppure modifichi un elemento della collection. Cioè, devi andare a rifare un fetch. Allora, se... L'utente... Non c'è... Cioè, se l'utente c'è... Qui abbiamo il next. E qui abbiamo lo user. Diciamo che qui possiamo metterci anche Distintal Team Changer per non fare trocchie chiamate. Ora, a me serve il collection ref dell'home e... Dov'è? Eccolo qua. Quindi, andiamo a importarci... Andiamo a importarci il tutto. Quindi, qui abbiamo la collection. Adesso, qui, dobbiamo andare a verificare se... Allora, intanto, user è sicuramente filtrato, perché il user qui c'è. Però, TypeScript non lo sa. Quindi, if user... Dopodiché, user c'è l'email e il display name. sullo user profile che ovviamente sta prendendo quello mannaggia a me quando l'ho chiamato così. Continua a prendere lo user profile di Firestore. Import from Allora, perché adesso mi da... Ah, perché eccolo qua. Ok. Io voglio il mio user profile. Ora, lo user profile. Ora, questo adesso è user. Ma user profile model ha unique d username e display name. Allora, lo username è l'email e il display name è display name. Quindi, devo andare a controllare nella collection e se l'utente già esiste, no? Così, se esiste... Beh, abbiamo la set, no? Però, la set lo fa con lo unique id. Facciamo una prova. In realtà, lo unique id, lo user, cha, get d token, no, provider id, no, tenantry, abbiamo lo user id. Esatto. Quindi, io posso fare una set doc. Ti ricordi? Vi ricordate, no? L'altra volta avevamo visto che la differenza tra il set doc e l'update doc è che il set se non esiste lo aggiunge. Ora, però, qui abbiamo la set doc, qui dobbiamo dirgli la collection e qui i documenti. perché qui vuole il doc esatto, prima che costruiamo il doc ref allora, visto che ce l'ho già ce l'ho qui da qualche parte eccolo qua e qui c'era l'add doc allora, lo username è user punto email che non gli piace facciamo così n barra dopo di che il display name è user punto display name e anche in questo caso mettiamo virgolette virgolette ora andiamo a vedere qui dovrei averlo già fatto eccolo qua perfetto qui creiamo il document il doc ref quindi andiamo a prendere qui lo user id quindi abbiamo riferimento allora set doc qui non dobbiamo prendere la collection ma è il doc ref virgola app andiamo a formattare se l'utente è logato creiamo l'oggetto e facciamo lo set ora andiamo a vedere qui negli users possiamo anche eliminare quindi mettiamo users quindi a questo punto se io faccio google e mi loggo però non vedo la raccolta se non c'è allora andiamo a vedere il eh si qui metto button almeno un problema dovrei averlo risolto ok facciamo una cosa togliamo via l'oninit e e qui ci mettiamo il constructor perfetto quindi centrato e adesso mi ha aggiunto perfetto quindi adesso abbiamo gli utenti